Non si può certo dire che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser siano una coppia noiosa. Da quando si sono scambiati il primo bacio nella casa del grande fratello VIP ad adesso, abbiamo assistito ad un crescendo di interesse, con polemiche e annesse, verso i focosi piccioncini pronti addirittura a diventare marito e moglie. Nella recente intervista rilasciata a Chi, Baby Rodriguez ha confessato che è arrivato il momento di diventare mamma e avere un figlio da quello che ha definito l'uomo giusto per lei. Come se non bastasse, durante una serata in discoteca Civita Nova Marche, la sexy modella sudamericana ha fatto sapere agli oltre 3.000 presenti di essere fidanzata ufficialmente. Ha promesso che mi sposerà, così riporta il corriere adriatico che ha colto l'occasione per indagare meglio. I dettagli non sono ovviamente ancora stati resi noti, ma la promessa d'amore eterno, assicura la sorella di Belen, è già avvenuta. Dunque possiamo ipotizzare che nel giro di un anno la piccola Rodriguez diventi la signora Moser. Intanto con Francesco Monta ha chiarito personalmente tutto, così da voltare pagina nel modo più sereno possibile. Eravamo legatissimi con le rispettive famiglie, resta un bellissimo rapporto, ma la fine di una storia fa parte della vita, ha dichiarato Ceciu a proposito dell'extronista.